E allora buonasera a tutti, ormai ci siamo, domani ci sarà il fatidico incontro fra la maggioranza e le opposizioni sul salario minimo, ma ancora oggi c'è stata una serie di scaramucce prese di posizione, insomma non sarà un incontro facile. Vi raccontiamo tutte le novità e poi facciamo un bilancio di quello che è accaduto in questi giorni molto intensi con il professor Cacciari che torna a fare noi, benvenuto professor Cacciari, grazie di essere collegato, con Giulia Merlo del domani, con Fabio Granata che conoscete come intellettuale finiano della stagione di Futuro e Libertà e ora è assessore alla cultura di Siracusa. Marianna Aprile, eccola, è venuta anche stasera, fino all'ultimo era tentata di andare con degli amici a fare una abbracciata e spiaggia e è venuta. Ho scelto gli affetti, ci vediamo da poco. 20 e 42 in diretta anche questa sera in onda con Luca Telese, rinunciabile socio, Giulia Merlo in studio con noi, Fabio Granata, assessore alla cultura di Siracusa collegato appunto da lì e collegamento da Caccuri, che è un volgo calabrese molto grazioso se siete in vena di vacanze, c'è il professor Massimo Cacciari che del premio Caccuri è finalista con un libro in Audi, buonasera professore, che campeggia proprio dietro di lei. Eccola, paradiso e naufragio. Ecco lì, in bocca al lupo per la finale. Non so se poi se è scaravanti. Ma poi è un bellissimo premio il Caccuri. Lo so, li conosco quindi non ne parlerò per conflitto di interessi, ma andiamo, cominciamo subito con il menù di giornata, che è un menù da vigilia, di Natale o di Capodanno, non è dato sapere perché non sappiamo se domani comincia un nuovo corso nei rapporti tra maggioranza e opposizione o appunto finisce anche un timido tentativo. Il piatto forte è l'incontro di domani sul salario minimo. Cominciamo a vedere cosa diceva Giorgia Meloni sul salario minimo, così capiamo che aria tira per domani con i nostri ospiti. In Italia c'è un serio problema di livelli salariali bassi. E io sono contenta che finalmente, diciamo, se ne accorgano coloro che quando erano al governo non sono stati in grado di invertire questa tendenza, salario minimo legale compreso, che non è stato approvato in passato. Perché se il salario minimo legale è la soluzione, perché i partiti che adesso lo chiedono a gran voce non lo hanno introdotto nei lunghi anni nei quali erano al governo? Probabilmente perché si è consapevoli del fatto che potrebbe non essere una soluzione efficace. Nel frattempo il Fatto Codidiano oggi ha tirato fuori una proposta di legge di Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia sul salario minimo del 2019. Walter Rizzetto ha rettificato, non è esattamente quello che propongono oggi. Insomma c'è una gran confusione su chi pensa cosa. Perché tutti hanno cambiato idea, in un senso o nell'altro. Esatto, però alla luce di questi cambiamenti repentini d'idea, io comincerei col professor Cacciari chiedendole se quello a cui assisteremo domani è un incontro vero o qualcosa che tutto sommato giova sia al governo per mostrarsi un po' aperto alle opposizioni, sia alle opposizioni per mostrarsi un po' più unite di quello che sono. Per rispondere bisognerà attendere i risultati. Guardate che ho tutto il ritorno, mi sento completamente quello che dico. Lo risolviamo subito. Quindi così non posso parlare perché sento in automatico quello che dico. Allora torniamo da lei tra pochi secondi il tempo di sistemare l'audio. L'audio, sì, sistemiamo subito. Ma intanto io approfitterei della conoscenza, del background di molti degli attori in gioco di domani da parte di Fabio Granata per fare sostanzialmente la stessa domanda. Cosa assisteremo domani Granata? Speriamo di assistere a uno spettacolo che vada nella direzione di una maggiore giustizia sociale e di maggior interesse per il diritto dei lavoratori. Quindi un aspetto che dovrebbe stare a cuore al governo perché un governo di destra dovrebbe avere a cuore l'interesse dell'Italia, dovrebbe avere a cuore la costruzione di politiche di autentica solidarietà. E credo che un timido segnale però interessante è stato dato ieri con la tassazione degli extra profitti che poi è stata in parte anche rimangiata. Però è un primo segnale che va in una direzione condivisibile. È troppo presto per poterlo dire, come diceva prima il professor Cacciari. Bisogna capire se questa schermaglia resterà tale. Però una cosa voglio dirla, proprio perché il professor Cacciari è collegato dalla Calabria e io sono collegato dalla Sicilia, i recenti incendi hanno distrutto, secondo i dati dell'ISPA, nei primi sei mesi del 23, 60 mila ettari di biodiversità, di superficie boschiva perché è mancata la cura del territorio, la prevenzione. E nel frattempo ieri il governo ha riesumato la società sullo stretto, abbattendo ogni tetto alle retribuzioni non tanto dei manager ma di questo carrozzone che si vuole rimettere in campo. Allora se si vuole fare una autentica politica sociale si deve dire stop a questo enorme spreco nel momento in cui tra Sicilia e Calabria, ripeto, dei 60 mila ettari, il 75% di questi 60 mila ettari che sono andati a fuoco appartengono alla Sicilia e il 25% appartengono alla Calabria. Cioè sostanzialmente è l'area del degrado maggiore. E nel momento in cui attraversa appunto una politica di rammento del territorio, di recupero del distesso idrogeologico, si può ovviare ad una occupazione di quei ceti che sono stati messi, diciamo così, in fortissima crisi dall'abrogazione to court del reddito di cittadinanza, si pensa ad abbattere i tetti retributivi per i grandi manager. Quindi io vedo una politica un po' schizofrenica. Si dovrebbe tornare con più forza a una politica sociale e a una forte capacità di capire quali sono le vere priorità dell'Italia e in particolare del Meridione. Bene, avete visto che Granata è di destra ma di una destra molto sociale. Cacciari, professor Cacciari, ci dice anche la sua opinione ovviamente, oltre alla domanda di Marianna, su che cosa pensa lei del salario minimo? Ma guardi, l'idea di poter stabilire i livelli salariali, che lo Stato, che ci sia una politica dei governi, che possa stabilire i livelli salariali è ridicolo, è patetico. I livelli salariali si sono sempre stabiliti sulla base di contrattazioni tra organizzazioni dei lavoratori e datori di lavoro, i ricompreso lo Stato, ovviamente l'amministrazione pubblica, laddove non c'è questa capacità di contrattazione, laddove le organizzazioni sindacali e le rappresentanze dei lavoratori sono ridotte allo Stato, in cui attualmente sono ridotte, cosa vuole che potrebbe stabilire i salari minimi? Laddove sono saltate tutti i contratti nazionali, hanno un valore puramente orientativo, nelle grandi realtà sociali, industriali, imprenditoriali, terziarie, e tutto viene regolato a livello di rapporti di forza, in cui i rapporti di forza sono ormai da anni, decenni, tutti squilibrati a favore del datore di lavoro. Di cosa stiamo parlando? Dai. Dopodiché, certo, possono essere pagliativi, e così anche la questione del reddito di cittadinanza, è evidente che va affrontata la questione, qui sì lo Stato deve intervenire, qui sì i governi devono intervenire, perché siamo in una fase di trasformazione tecnologica che renderà non più necessari tutta una serie infinita di occupazioni, di professioni. Siamo all'inizio di una trasformazione epocale da questo punto di vista, e quindi o noi vogliamo creare masse di disoccupati, oppure dobbiamo certamente di puri disoccupati, con frustrazioni, risentimenti, odi di tutti i generi, spaccando la nostra società in modo drammatico, oppure certamente dovremmo garantire redditi decenti per tutti, a prescindere dalla loro collocazione nel mercato del lavoro. Questo è il discorso da affrontare, serio, strategico, non attraverso aspirine e palliativi. Questi sono i grandi temi da affrontare. Quello del reddito di cittadinanza è responsabilità dei governi, quell'altro è sui salari minimi, i governi possono metterci una pezzetta minima, perché il resto viene deciso come tutti sanno, come sa il buonsenso, come ci dice la storia, sulla base di rapporti di forza tra datori di lavoro e lavoratori. Io però, tra l'altro, dall'analisi del professor Cacciari, esco un po' depressa, perché sembra appunto che siamo privi degli strumenti che serviranno per affrontare i cambiamenti strutturali al mercato del lavoro e sembra non esserci l'humus politico per crearne di adeguati. Però a proposito dell'aria che tira nella politica e nel modo di condurla, non è stato un passaggio banale questo dell'incontro di domani, anche dal punto di vista della forma con cui ci si è avvicinati all'appuntamento. La convocazione delle opposizioni senza una reale convocazione, ma con una notizia a mezzo stampa, come hanno evidenziato i convocati. La precisazione della propria posizione con gli appunti di Giorgia, quindi un messaggio social in cui era uno dei temi del videomessaggio esplicitato in modo neanche troppo incoraggiante in vista dell'incontro di domani. Ti chiedo se stiamo assistendo a un cambiamento anche di pelle da parte di Giorgia Meloni, perché lei era quella del faccia a faccia, del rapporto schietto e diretto. Adesso sembra che sia con i giornalisti, le conferenze stampa, le interviste, sia con gli avversari politici, ci sia una mediazione pesante. Io credo che in questa situazione... È brava la Meloni, impara. Ha imparato? Quindi è giusto così? Aspetti, sentiamo Giulia Meloni. È brava, impara. Lei c'è una scadenza ben precisa che sono le prossime europee, devono cambiare la maggioranza, è un salto anche questo storico, all'interno della governance europea. E per prepararsi a quel salto deve appunto avere toni come quelli che sta avendo. Deve dimostrarsi conciliante, deve dimostrarsi politica, deve dimostrarsi diplomatica. Il tema della domanda a Giulia Merlo non erano... I toni era proprio il metodo di comunicazione anche con gli avversari, oltre che con i giornalisti. Sembra una cosa molto più contenuta. Certo, deve cambiare. No, no, scusi professore. Deve cambiare. Faccio rispondere a Giulia Merlo. Non posso essere intelligente, c'è la scadenza alle europee, deve cambiare. Ci arriviamo, volevo sentire Giulia Merlo. Io credo che Meloni in realtà stia facendo una delle cose che le riesce meglio, cioè l'opposizione, perché anche il contenuto del messaggio che lei ha mandato via social era quasi un'accusa a quelle che oggi sono le sue opposizioni, dicendo voi non l'avete fatto perché oggi venite a chiederlo a noi. Ecco, diciamo che normalmente quando si governa, si governa, non si rinfaccia alle opposizioni che governavano prima di non averlo fatto. Quindi, diciamo, è una delle tattiche standard che Meloni ha utilizzato. Meloni però è stata anche molto tattica e molto brava in una cosa, cioè ha nuovamente diviso le opposizioni che arriveranno a questo tavolo con posizioni diverse, con toni differenti, con una volontà di dialogo differente e lo fa in una condizione in cui in fondo non si deciderà nulla, perché con il rinvio in Parlamento di quello che è poi effettivamente l'ordine del giorno che ha in qualche modo mosso la macchina intorno al salario minimo si arriverà probabilmente verso fine di gennaio, perché con la finanziaria di mezzo il rinvio è stato a fine settembre, ma certamente a fine settembre non ci sarà il tempo né il modo di discutere di questo. Quindi in fondo è un tavolo che è più un tatticismo politico che un passaggio legato a una volontà legislativa particolare. Allora, a questo punto sarebbe interessante capire se si realizza un chiasmo, cioè se Granata, che invece viene da una storia di destra, come ha fatto intuire nel primo intervento, al contrario del professor Cacciari, che è indubitabilmente un progressista, ma critico sul reddito, se invece Granata pensa che il salario minimo sia una misura giusta, migliorabile, integrabile. Cosa pensa Granata? Ma io penso che sia sicuramente una misura... Ma è soltanto che chiaramente si ridurrà ad un enunciato, a qualcosa di totalmente inconsistente, perché poi il salario minimo in ogni azienda, in ogni struttura, già c'è. Prego, Granata. Sì, sì, a me è chiarissimo ciò che ha detto il professore, infatti non lo avevo mal interpretato. Sicuramente è auspicabile che alcune sacche di sfruttamento rispetto ad alcuni lavori, soprattutto, e non soltanto al sud, ma soprattutto con riguardo ai giovani, vengano in qualche modo affrontate. Che poi sia una schermaglia, così come è stato detto, legata anche a una necessità che hanno sia maggioranza e opposizione, di farsi vedere pronti su un tema sociale, in una fase molto particolare, in cui alcune contraddizioni, cominciando dal reddito di cittadinanza, stanno facendo emergere delle gradissime tensioni sociali, credo che siano nei fatti. Per questo io ho guardato con grande attenzione a questa misura, poi in parte, come dire, sminuita della tassazione degli extrautili delle banche. E faccio anche un'ulteriore provocazione, mi rivolgo a Luca Telese, Io ritengo che la stessa cosa si debba fare sugli armamenti e sulle grandi case farmaceutiche, industrie farmaceutiche, perché in questa fase, scusi, perché proprio per questa mutazione epocale che stiamo attraversando, servono essere garantite delle risorse per i ceti che non ce la fanno più, perché c'è un problema di povertà in Italia che non possiamo e non dobbiamo ignorare. Allora, su queste grandi questioni, io credo che siano saltati gli schemi di destra e sinistra, io credo che ci sia la necessità di aprire un nuovo conflitto politico tra chi crede che tutto possa essere sacrificabile, il diritto delle persone, il diritto alla vita, la bellezza dei luoghi, e chi invece ritiene che ci siano dei valori oltre i quali non si possa e non si debba andare. Questo è il nuovo conflitto di prospettiva in cui mi sento schierato in una posizione inedita rispetto a ciò che la collocazione tradizionale mi vorrebbe. Io non sono, per certi versi, peraltro io apprezzo, lo diceva prima il professor Cacciari, apprezzo la capacità politica di Giorgio Meloni, ma non essendo io né conservatore né liberale, non condivido questa linea e infatti insieme ad altri non siamo né mai saliti e quindi neanche scesi, ma non stiamo con Fratelli d'Italia e con questa destra di governo. Beh, insomma... È una puntata sabida, cara Mariana, da leggere in filigrana. Però, insomma, l'estensione della tassazione degli extra profitti anche alle armi e alla farmaceutica è una proposta che il presidente Cinque Stelle Conte aveva avanzato tempo fa e questo ci porta dritti al prossimo sfoglio di questa impaginazione di Nonda di stasera che sottopongo subito al professor Cacciari per poi proseguire con i nostri ospiti perché, appunto, vorremmo fare un tagliandino all'opposizione visto che persino la maggioranza pesca ogni tanto dall'opposizione delle proposte e allora vediamo cosa ha detto Elislein, la segretaria del Partito Democratico qui da noi qualche giorno fa e da lì partiamo. Abbiamo iniziato da poco, dateci anche il tempo di sbagliare e sicuramente succede e succederà. La destra è sicuramente molto efficace nel nominare i problemi che vivono quotidianamente le persone e nel cavalcare le paure ma non a fornire le soluzioni. Guardate questi primi nove mesi di governo stanno a zero. Cioè, se si vogliono davvero aggredire le cause profonde del disagio sociale e della povertà che è aumentata durante la pandemia bisogna fare tutto il contrario di quello che sta facendo Giorgia Meloni. Professor Cacciari, Elislein è la persona giusta nel posto giusto per auspicare quello che auspicava prima Fabio Granata. Cioè, che il conflitto si sposti sulla sostanza e non sulle caselle che si riempiono. Guardi, la Schein cerca di rimontare per il momento, come abbiamo sentito anche da queste battute con non molto più che una normale retorica rimontare una disfatta culturale e politica una disfatta di fronte all'ondata neoliberista di tutte le sinistre europee che è cominciata con la caduta del muro e che è cominciata con gli anni 90. Quindi il compito che lei si trova di fronte è immane ne avrà le capacità di ridare vita ad una forza che riesca ad affrontare i grandi problemi di sperequazioni di disuguaglianze della povertà crescente ma al di là della povertà della proletarizzazione di tutto un ceto medio in questo Paese ma in tutta Europa le questioni internazionali avrà la forza di avere una voce propria sulle grandi questioni internazionali ma come fa a qualificarsi una sinistra oggi in questo Paese se le sue posizioni sono assolutamente schiacciate sulle posizioni atlantiche come fa a prescindere che siano giuste o sbagliate ma le dico come fa come fa non avere una politica estera propria una forza di sinistra in questo Paese in questa Europa e sulle politiche sociali sono chiacchiere perché non c'è nulla che sia qualcosa di diverso rispetto al reddito di cittadinanza nulla che sia qualcosa di diverso dal salario minimo ci sono delle proposte diverse con più respiro più strategiche no non emergono e così potrei continuare sul fisco perché per esempio non abbraccia questa questione della tassazione sui super profitti chiamiamoli così e questa mi sembra una posizione assolutamente normale per una sinistra europea in una situazione in cui tutti sanno che le industrie farmaceutiche le industrie delle armi eccetera stanno facendo profitti in mani in questo periodo in mani durante il covid si sono arricchite tutte e a beneficio di chi ma e allora perché non cavalca per esempio questo assist della Meloni ma è misteriosa voglio dire prima di rimontare la disfatta la disfatta che la Schlein faccia leva anche sulle contraddizioni della destra dica ah sì vuoi questo perché metterebbe immediatamente in contraddizione la Meloni con Forza Italia se fa leva su queste questioni è evidente che Forza Italia proprio strutturalmente ha un'idea di politiche fiscali eccetera completamente diverse rispetto a quelle di una destra sociale e allora fai leva su queste contraddizioni viva Dio non ricompattare ogni volta che parli tutta la destra come non ci avessero contraddizioni pazzesche fa leva sulle contraddizioni che esistono sul piano delle riforme istituzionali no fa leva su questo la Meloni evidentemente vede come fumo negli occhi la questione del federalismo fa leva su questo viva Dio fa politica viva Dio non fare quattro chiacchiere territoriche come quelle che abbiamo appena sentito allora completiamo il tagliato e chiediamo a Giulia di commentarlo perché i nostri ospiti stasera ci stanno spiazzando Granata le facciamo sentire il conte più di battaglia sul reddito di cittadinanza e a questo punto ci dice cosa ne pensa lei se sono chiacchierette anche queste state lasciando sindaci assistenti sociali funzionari dell'Ips esposti a questo disastro sociale e siete gli unici responsabili state spaccando consapevolmente il paese perché avete illuso queste persone le avete anche insultati chiamandoli divanisti dopo nove mesi ministra Calderoni abbiamo scoperto che chi non vuole lavorare è questo governo che non ha fatto nulla divanisti siete voi mandate un nuovo sms a tutte queste persone chiedete scuse ecco Granata c'è comunque un filo di continuità fra il salario minimo il reddito però la sua opinione ci interessa noi aspettiamo anche delle scuse da parte del Movimento 5 Stelle che per illusionismo rispetto alle attese di maggiore giustizia sociale è stato sicuramente una forza preponderante invece io voglio sottolineare con grande condivisione ciò che ha detto prima il professor Cacciari il tema e il problema è che in Italia esiste oggi una sorta di partito unico liberista che ha le stesse identiche posizioni con qualche sfumatura rispetto soprattutto alle grandi questioni dell'indipendenza nazionale perché la posizione sulla guerra ciò che costa questa guerra all'economia italiana è a quella europea e ciò che significa ha rappresentato questo appiattimento certamente non è una contraddizione che la sinistra è in grado di come dire di governare in modo positivo perché la sinistra è perfettamente appiattita cioè c'è un partito unico atlantista che si rifiuta di ascoltare anche le parole del Papa rispetto innanzitutto alla grande tragedia umana e dei popoli rispetto alla guerra ma anche una questione di interesse nazionale ecco credo che questo tema dell'interesse nazionale sia un tema che deve essere fatto riemergere con forza io sono assessore alla cultura di una giunta civica che va oltre il centrodestra e il centrosinistra mi porto dentro questa esperienza i miei errori ma anche la mia visione ciò che ha rappresentato insieme a un sindaco giovane molto bravo che si chiama Francesca Italia che a livello nazionale ha aderito al partito di Calenda ma con il quale ci confrontiamo quotidianamente su questi temi della solidarietà sociale ci ritroviamo all'unisono oltre alle vecchie etichette allora io credo che oggi si debba riuscire diamo la parola in studio come? si no la interrompo solo perché abbiamo pochissimi minuti e volevo coinvolgere nella conversazione Giulia Merlo perché si prego scusate avevo esagerato nei tempi no no ma a noi la passione piace sempre quindi nessuno non c'è bisogno di scuse però volevo tornare su quello che diceva il professor Cacciari prima su diciamo questo indugiare da parte di Schlein rispetto alla possibilità di cavalcare anche le difficoltà spesso evidenti no le fratture evidenti nel centro-destra tu insomma li frequenti li vedi all'opera tutti i giorni ti chiedo se ti sei fatto un'idea del motivo per cui paradossalmente Giuseppe Conte è più no più reattivo nel cavalcare i temi e se pensi che questo indugiare di Schlein possa dipendere da quello che ha alle spalle c'è un partito che non completamente si riconosce in lei io penso che il partito democratico in questa fase sicuramente sconti per forza di cose il fatto di avere una segretaria giovane una segretaria che deve ancora prendere le redini di un partito che è ancora balcanizzato vediamo il professor Cacciari prima citava la questione autonomie la reazione di De Luca rispetto a tutto quello che è il dibattito interno al partito democratico sul tema dimostra come il partito democratico è un partito ancora molto in ebollizione che la segretaria anche se la Schlein su questo è molto netta è contro ogni forma di autonomia anche De Luca però ecco diciamo che è stato proprio un tema che avrebbe dovuto unire il partito democratico contro il governo oggettivamente il partito democratico si è trovato nella difficoltà di non avere delle posizioni perfettamente convergenti queste sono le questioni impellenti davanti a Elislein che probabilmente dovrà provare a risolverle anche in vista degli europei quindi è quasi più un problema interno al PD in questa fase che è esterno di lotta rispetto a Giorgia Meloni la quale io credo anche con queste misure anche con quella del reto di cittadinanza che le rinfacciava Conte si sta trovando in questo momento a fare una partita molto tattica perché a guardare i sondaggi e questo è un esperimento che noi abbiamo fatto in settimana si vede come l'elettorato di Giorgia Meloni è sempre più forte nel nord-est quindi ecco se io metto insieme quelle che sono state le misure recenti del governo e quindi l'abolizione del reto di cittadinanza lo stop al PNRR soprattutto con una parte che era destinata ai comuni e soprattutto al sud ecco che sono tutte delle indicazioni che vanno in una direzione molto precisa target elettorale complesso ottimo professor Cacciari manca la sua ultima sentenza e se mai si fosse perso qualcosa le facciamo rivedere il filmino del terzo polo in questa estate ci serve un suo parere illuminato perché sappiamo che li conosce bene calendare sono felice che a guidare questa partita sia Carlo e io sia al suo fianco ringrazio Matteo Renzi per il gesto di generosità tante cene romane perse da persone che dicevano avete rotto con Matteo Renzi ah boh chi semina vento è chiaro che raccoglie tempesta non ha sbagliato Renzi questa rottura purtroppo non l'abbiamo fatta noi perché Renzi ha fatto Renzi provo un po' di imbarazzo diceva il riformista io non parlerò mai di niente che mi riguardi oggi stavo in una trasmissione politica a parlare di politica con dietro la scritta il riformista a me non interessa di dove va a cena Bonifazi come non mi interessa di dove va a cena Richetti se domani Matteo Renzi decidesse di andare insieme a Forza Italia sarebbe una scelta del tutto legittima in bocca al lupo se questa è la sua strada insomma un po' di affetto e anche qualche calcio sotto il tavolo intanto lei professore sarebbe andato al Tuiga a cena con la Sant'Anche no no intanto la Sant'Anche non si sogna neanche di invitarmi quindi non corro questi rischi sia tranquillo a parlare di Musil mi metterebbe in imbarazzo ma è una signora intelligente e non fa queste cose dopodiché è ridicolo parlare di Terzo Polo no? come? sono due sono due personaggi uno che ha fatto politica sul serio e se è sul serio è suicidato quell'altro che ha cercato di fare politica accasandosi ora con l'uno ora con l'altro un giorno Montezemolo con l'altro giorno Monti poi il PD di uno poi il PD di quell'altro eccetera eccetera quindi sono due personaggi incomparabili perché di Renzi si può dire tutto quello che si vuole ma è uno che insomma si è fatto no? è al 40% ci è arrivato in quel giorno in quel giorno benedetto maledetto da solo quindi insomma attenzione si tratta di due personalità incomparabili detto questo nell'uno nell'altro ormai hanno una minima chance di poter contare addirittura laddove si si arrivi all'europea e all'europea venga consacrato sì per forza perché se all'europea quello che continuo a dire che non è chiaro la scadenza decisiva sono le europee perché alle europee la Meloni potrebbe essere il largo della bilancia di un cambiamento radicale di governance sul piano europeo allora a quel punto tutto cambia le cosiddette sinistre terzi poli italiani scompaiono e abbiamo una destra che sarà difficile da ricomporre sarà difficile da sistemare ma che ha in mano tutte le carte del gioco fantastico ci fermiamo ci fermiamo c'è il super spot e poi torniamo subito torniamo subito allora siamo tornati in studio dopo questo ritratto al vetriolo incrociato di Cacciari del professor Cacciari Giulia Merlo e poi chiudiamo con Granata un minuto caustico altrettanto tuo per mettere a posto le cose ma a me sembra che sia potenzialmente una grande occasione persa perché in questo momento al centro si sta aprendo uno spazio vogliamo chiamarlo centro vogliamo chiamarlo centrodestra queste poi sono definizioni che lasciano il tempo che trovano però con Forza Italia così in subbuglio in attesa di un congresso Cacciari sgrana gli occhi infatti appunto non mi spingo a definire quello che è lo spazio occupato da Matteo Renzi e da Carlo Calenda con una definizione diciamo politica ma al netto di questo c'è sicuramente uno spazio che in questo momento è conteso Forza Italia si trova in una situazione difficile Calenda e Renzi avrebbero potuto approfittarne e in questo momento stanno facendo quello che hanno sempre fatto mi sembra che non ci siano grandi potenzialità di ricompattamento bisognerà capire cosa vogliono fare da grandi entrambi ecco perfetto eventuali smottamenti potrebbero avere ripercussioni anche sugli equilibri interni del governo soprattutto alla luce di qualche problemino con qualche ministro allora chiuderei chiedendo a Fabio Granata che ha auspicato un tagliandino al governo perché testuali parole sue ci sono dei personaggi imbarazzanti intanto a chi si riferiva perché possiamo vivere senza fuori i nomi beh ma i nomi io credo che un ministro della giustizia debba fare il contrasto alle mafie alla corruzione non la guerra ai magistrati questo è il primo nome il secondo nome è quello della Sant'Angei che non mi ha convinto minimamente neanche come argomentazioni portate in senato poi ci sono dei ministri molto bravi va detto quindi neanche lei andrebbe a cena al Tuiga Granata ma io credo che il no no non frequento e non frequenterei il Tuiga sia per Viratore che per la Sant'Angei detto questo vorrei soltanto tornare su ciò che diceva il professor Cacciari io credo che il problema che non è il problema della sinistra ma il problema della politica italiana sia quella di fuoriuscire da una difesa dei diritti o dei desideri individuali e tornare a creare le condizioni perché si possono difendere i diritti dei popoli e delle comunità per questo io credo che il dato anche rispetto alla guerra e alla politica estera possa aprire una dinamica interessante non domani ma in prospettiva per tutti quelli che non ci stanno a schierarsi nel partito unico come? da quelle posizioni si può provare a ripartire dice lei noi invece ci dobbiamo fermare perché sono finiti ci può ripartire ma non dal centro si deve ripartire dai temi si deve ripartire non dal centro si deve ripartire mettendo in discussione alla base un tema che è quello della collocazione internazionale dell'Italia allora facciamo un tema grazie Grata facciamo tutti gli auguri al professor Cacciai di vincere il premio perché è un premio importante e prestigioso e c'è un film cara Marianna con Bart Lancaster e Jean Moreau il treno meglio prenderlo che finirci sotto salutiamo Giulia Mello Fabio Granate il professor Cacciari buona serata noi ci vediamo domani puntatone puntatone state lì buonasera grazie grazie